Buongiorno a tutti, oggi ho una notizia storica da darvi perché tutti i nostri prodotti d'oca, la salame cotto d'oca, il prosciutto cotto, il salame stagionato, per non dimenticare il petto d'oca e la bresaola d'oca, sono stati certificati made in Italy dalla dogana di Roma. Oggi sono qui presso la dogana di Pavia a ritirare la certificazione e siccome anche la progettazione e la lavorazione e il confezionamento avvengono a Vigevano possiamo dire che tutti i nostri prodotti sono 100% made in Italy. Siamo la prima azienda non solo vigevanese ma pavese ad aver ottenuto questo grande riconoscimento quindi motivo d'orgoglio per Ocas Forzesca, per Vigevano e per il territorio Lomellino. Grazie a tutti per la preziosa collaborazione.